Un tavolo di concertazione con i parlamentari abruzzesi, i sindaci di Sulmona, Vezzano, Vasto e Lanciano e i presidenti degli organismi forensi per chiedere un'altra proroga per i quattro tribunali finiti nel riordino della geografia giudiziaria, scongiurandone la soppressione. E questa è la mossa studiata a tavolino dal presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e dal presidente della regione Abruzzo-Lociano D'Alfonso, che in una nota ricordano l'iter, seguito dalla regione a difesa dei tribunali. Il Consiglio della regione Abruzzo ha adottato nel tempo tre motivate risoluzioni con le quali è impegnato la Giunta a interloquire con il Governo centrale al fine di elaborare un piano di ridefinizione complessiva della geografia giudiziaria regionale a partire dalla riconsiderazione dei criteri oggettivi omogenei fissati dalla legge delega 148-2011 ovvero l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro e l'indice delle sopravvenienze, la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo la situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, ricordano Di Pangrazio e D'Alfonso. Per entrambi nel tavolo salvatribunale tutte le ragioni e le possibili prospettive dovranno trovare esposizione e valutazione e rinnovata considerazione affinché sulla metà della regione, tutta l'area sud dell'Abruzzo, non cali la mannaia tagliatrice, chiudendo i prestiti di legalità e comprimendo inesorabilmente servizio giustizia. La prima richiesta forte e chiara, aggiungono, dovrà essere comunque la proroga di alcuni anni del termine fissato per l'attuazione della chiusura di tutti i quattro tribunali abruzzesi già individuati in attesa di procedere a delineare una nuova e più precisa articolazione degli uffici giudiziari.